Che figura farei a farmi allenare da te se poi schiatti? È una sfida come un'altra. Questa sfida la conosco bene. Più va avanti, più peggiora. E il più delle volte neanche vinci. Sì, ma non mi interessa. Io non combatto se tu non ti curi. Io combatto tu pure.